Tra i prodotti caratteristici dello stabilimento di scanse rosciate ci sono l'acido malico e l'acido fumarico. L'acido malico viene utilizzato nel campo food, mentre invece l'acido fumarico viene utilizzato nel campo feed, quindi nel campo dei mangimi alimentari. L'acido malico è un acido organico biodegradabile presente in natura. Si trova in frutti e bacche. In particolare è presente nella buccia della mela, da cui prende anche il suo nome malico. Viene industrialmente prodotto da una reazione tra anidride maleica e acqua. Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche e organolettiche ha svariati campi applicativi. Infatti viene utilizzato per i trattamenti dei metalli, per materiali per la costruzione, in industrie farmaceutiche e nell'industria cosmetica. Un grosso campo di applicazione dell'acido malico e l'industria alimentare viene utilizzato come esaltatore dei sapori dei dolcificanti e come correttore di acidità. L'acido malico lo possiamo trovare nei canditi, nei dolciumi, nelle bevande e nelle caramelle. Grazie a tutti.